Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui da Vax Games, oggi voglio farvi gli auguri di buon Natale, buon anno, auguri a tutti voi ragazzi e grazie che mi state sostenendo e oggi vi lascio con un piccolo video di 3 minuti più o meno e spero che vi piaccia come l'ho fatto e non ci sarà i commentari, quindi ci sarà un po' di musica sottofondo e voglio vedere se lo potrete dare problemi al mio canale, spero che vi piaccia, polliciate ogni rete e commentate Ciao ragazzi e auguri a tutti, mi raccomando non commentare spam così potrò un solizzarti e anche venire con piacere nel tuo canale Ciao ragazzi, alla prossima, ciao e auguri a tutti voi Ciao 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 grazie a tutti